Nuova commessa per lo stabilimento Fincantieri del Muggiano che vedrà nella seconda parte dell'anno entrare lavori per 7 milioni di euro. Fincantieri si è infatti aggiudicata un contratto con le Forze Armate di Malta per l'ammodernamento di un P61, un pattugliatore offshore realizzato oltre dieci anni fa proprio dall'azienda italiana. Gli interventi di ammodernamento che prevedono la manutenzione complessiva di molti dei sistemi di bordo sono finalizzati a migliorare la capacità reattiva dell'unità. I lavori prenderanno avvio nel secondo trimestre del 2017 al Muggiano e dureranno circa sei mesi. Il pattugliatore P61 con una lunghezza di oltre 53 metri è stato costruito e consegnato dallo stabilimento Fincantieri del Muggiano alle Forze Armate di Malta nel 2005 e rappresenta l'evoluzione del progetto della classe dei patrugliatori 18, unità costruite da Fincantieri per la Guardia Costiera italiana. Grazie a questo intervento la nave sarà ammodernata prolungandone la vita operativa. A firmare il contratto sono stati il capo delle Forze Armate Maltesi e il responsabile del refitting della Naval Services Business Unit di Fincantieri.